Che quello che abbiamo creato qui possa essere unico nella storia dell'umanità. Arriviamo in cima! Abbiamo creato il paradiso. È meraviglioso. I ragazzi sono fantastici. Mi manca mamma. Per ora devi restare in ospedale. Dimmi come sta. Siamo una famiglia. La colpa è solo tua. Leslie era malata. Dovunque tu sia, restaci. Se ti fai vedere, ti faccio arrestare. Non possiamo andare al funerale. Dobbiamo fare come ci hanno detto. Noi vogliamo vedere la mamma. Il nonno non può impedircelo. Questo è il vostro primo vero test. Ricordate i miei insegnamenti. Hanno gli odonti. Che cos'è la Coca-Cola? Acqua velenata. Sono davvero felice che la famiglia si sia riunita. Sono tutti prodotti biologici. Come sono stati uccisi? Con la cinta o il coltello? Io li ho comprati in rosticceria. I pollici comprano già morti. Hanno bisogno di disciplina e di una scuola vera. Spero vivamente che non abbiate fatto quello che penso. Sua figlia mi ha insegnato molte cose. Vuoi diventare mia moglie? A parte quello che ha scritto nei libri, io non so proprio niente! Anche se superassero tutte le prove a cui li sottoponi, sarebbero comunque impreparati al mondo reale. Io invece ritengo sia vero il contrario. Questo è abuso di minore. Stavi per colpirmi? Se avessi voluto colpirti, l'avrei fatto. Vieni qui. Ciao, nonna! Io e Abby abbiamo deciso di chiedere la custodia dei bambini. Ci porteranno via da te. È una possibilità. I nostri figli potrebbero diventare re filosofi. E questo mi rende felice. Ciao, ciao! Grazie a tutti.